la storia dell'albania inizia con uno dei primi popoli nel continente europeo i pelasgi i pelasgi erano un popolo costituito da coltivatori pirati e contadini e vivevano nella parte centrale dell'attuale grecia e nelle isole greche pelasgi è una parola che potrebbe derivare dall'albanese spellagi e significa abitanti delle coste in un determinato momento della storia arrivarono in grecia dei popoli provenienti dall'africa questi popoli erano semiti israeliti ed egiziani e si unirono ai pelasgi formando gli elleni molti pelasgi non accettarono di unirsi a questi popoli stranieri e divenuti una minoranza decisero di abbandonare la loro terra e spostarsi in altre zone del continente europeo i pelasgi che non accettarono di unirsi ai semito egiziani si spostarono in queste zone albania epiro antica macedonia kosovo serbia turchia croazia bosnia slovenia bulgaria romania montenegro e italia i pelasgi che rimasero in grecia si mischiarono con i semito egiziani e formarono gli elleni chiamati erroneamente greci verso il 1800 infatti sarebbe più corretto chiamare i greci di oggi elleni e non greci i greci in realtà erano popolazioni pelasgiche mentre gli elleni erano un misto di pelasgi e semito egiziani un'altra prova a sostegno di questa cosa è la similitudine tra gli antichi dei degli egizi e i dei dell'olimpo dell'antica grecia i popoli semito egiziani venendo in grecia hanno portato tutta la loro cultura la loro matematica le ricerche sull'astronomia e la loro religione mentre i pelasgi erano pagani avevano rituali pagani forse l'avevano creato loro il paganesimo difatti anche ora in albania molti rituali sono pagani e molti neanche lo sanno i pelasgi che si spostarono dalla grecia cambiarono anche il loro nome i pelasgi di albania montenegro bosnia e croazia si fecero chiamare illiri e la loro terra illiria i pelasgi del kosovo si fecero chiamare dardani e la loro terra dardania i pelasgi di romania si fecero chiamare daci e la loro terra dacia i pelasgi della bulgaria si fecero chiamare traci e la loro terra tracia i pelasgi del nord ovest della grecia si fecero chiamare epirioti e la loro terra epiro i pelasgi dell'ovest della turchia furono i troiani e la loro terra troia i pelasgi andati in italia si fecero chiamare etruschi e la loro terra etruria i pelasgi in serbia si fecero chiamare moesi e la loro terra moesia anche se sono passati secoli e i popoli si sono mischiati ci sono prove che gli abitanti di queste zone hanno il dna molto simile tra loro ad esempio i toscani che discendono dagli etruschi hanno una parte di dna che si avvicina molto alle popolazioni dei balcani torniamo alla storia in albania l'illiria che si estendeva dal nord dell'albania fino alla slovenia aveva capitale scutari tutte le città più importanti erano in albania e i re i principi erano anche loro dal territorio dell'albania mentre la lingua degli illiri era l'albanese antico nei secoli poi si è un po modificato influenzato dalle diverse invasioni gli illiri fecero diverse guerre contro l'impero romano ma alla fine furono sconfitti e l'illiria divenne una provincia romana anche se con molta autonomia rispetto a tutte le altre province e rimase una provincia romana per molti secoli verso il 600 700 dopo cristo avvenne un fatto che cambiò l'europa gli slavi provenienti dal nord est si spostarono verso l'europa centrale e nei balcani si insediarono nei territori delle attuali serbia macedonia croazia slovenia bosnia bulgaria montenegro e per molto tempo furono gli schiavi degli illiri fino a quando divennero troppo numerosi e assimilarono gli abitanti originari di queste zone ecco perché un bosniaco o un croato ha nel dna una parte illira e una parte slava mentre le popolazioni di albania kosovo sud del montenegro ovest della macedonia grecia romania non si mischiarono a queste popolazioni slave questa è la storia nascosta dell'albania dai pelasgi all'arrivo degli slavi nei balcani non ho voluto scrivere la storia moderna dell'albania che va dall'anno mille dopo cristo ad oggi perché è risaputa mentre la storia antica albanese è ancora tenuta nascosta l'albania oggi è in una dura lotta per far conoscere la verità al mondo e cioè che siamo autoctoni nei balcani e siamo i diretti discendenti dei pelasgi ma molti non la accettano per il fatto che un paese povero come l'albania non può avere una storia così antica e anche di tempo